Ma come? Proprio nello scorso video hai fatto una classifica dei migliori antivirus gratuiti presenti sulla piazza, mi hai consigliato quali installare e quali no e adesso bello bello tenesci con questa storia che l'antivirus non basta più. Ma insomma, a che gioco stai giocando Vito? Beh, assolutamente nessun gioco, anzi ribadisco quello che ti ho detto nello scorso video, ma aggiungo anche una cosa che ho già avuto modo di dire in passato, ovvero che l'antivirus va benissimo ma non basta da solo a proteggere il nostro sistema e siccome nel corso dell'ultimo anno le minacce si sono notevolmente evolute, quella che voglio consigliarti oggi è una soluzione definitiva che, affiancata al tuo antivirus di fiducia, ti consente di avere una protezione globale del tuo computer molto ma molto più efficaci. Ma prima di continuare ti sei accorto che questo è il primo video della storia del nostro canale che non ha la sigla iniziale? Ti piace questa cosa? Non ti piace? Fammelo sapere nei commenti. Ma adesso, come sempre, se ti senti pronto, iniziamo. Ma siccome le nostre amiche sono sempre in agguato, non sia mai che ci dimentichiamo di effettuare, come sempre, il nostro rituale apotropaico che serve a tenere a bada le divinità del tubo. Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Se segui il canale da tanto tempo sicuramente mi hai già sentito fare questo discorso, ma mi ho accennato nell'introduzione di questo video, durante il corso dell'ultimo anno le minacce online si sono decisamente evolute, come abbiamo visto, e sono diventate particolarmente più insidiose che in passato. E quindi è più che mai opportuno rinnovare tutta quanta la nostra protezione utilizzando degli strumenti efficaci e soprattutto attuali. Di che cosa sto parlando? Esattamente di quello che c'è scritto nel titolo di questo video, ovvero che è fondamentale avere un buon antivirus installato sul proprio computer, ma che è un antivirus da solo ormai non basta più. È opportuno sicuramente integrare questo antivirus, quale che esso sia, con la protezione fornita già di base da Windows e quindi se installiamo ad esempio Kaspersky oppure Bitdefender, quello che vogliamo, dobbiamo accertarci che questo lavori di concerto con la protezione di Windows, ma questo succede in maniera praticamente automatica. Quello che invece non succede in maniera automatica è che il nostro computer venga protetto anche alle spalle. Che cosa intendo dire? Che è facilissimo ormai per una minaccia nel 2025 disattivare l'antivirus principale. Quello che è molto meno facile per una minaccia che bussa alle porte del nostro computer dall'esterno e disattivare anche un antimalware secondario che gira in background e con cui possiamo controllare che sia tutto a posto sul nostro pc. Ma come facciamo a fare andare d'accordo il nostro antivirus, il nostro antimalware e la protezione di base di Windows? Beh, te lo faccio vedere subito. E per prima cosa, per farlo, andiamo ad aprire il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andiamo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Ok, ecco fatto, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come sempre riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Fatto questo, apriamo la nostra pagina e portiamoci qui in alto nella sezione che si chiama Downloads. Una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Malwarebytes Anti-Malware, se ben ricordi te ne ho parlato già in passato, ma questa è l'ultimissima versione che ti consiglio assolutamente di installare e che offre una protezione aggiuntiva al tuo antivirus e convive perfettamente sia con l'antivirus che con tutte quante le protezioni di Windows. Nel caso in cui non riuscissi a trovarlo in questa pagina niente paura, ti basta andare qui in alto sulla finestra di ricerca, cliccare sulla lente e digitare ad esempio la parola Malwarebytes. Effettua la tua ricerca e vedrai che ti comparirà qui il file scaricabile su cui ti basterà fare semplicemente clic e vedrai che verrà immediatamente portato sul tuo sistema. Per aprirlo fai clic su questo pulsantino qua, vedrai che ti si apre la cartella compressa e potrai chiudere la finestra del browser retrostante che non ti serve più. A questo punto ci porteremo nella cartella dei download, faremo doppio clic sulla cartella compressa e nuovamente doppio clic sul file mbsetup.exe. Accetteremo che vengono apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo, dopodiché sceglieremo di installare con il pulsante installa il nostro Malwarebytes. In questa finestra ti consiglio di cliccare su uso personale se usi Malwarebytes a livello domestico o altrimenti se lo usi in ufficio dovrai cliccare su impresa. Clicchiamo ancora sul pulsante avanti e a questo punto clicca su salta questo passaggio non consigliato per evitare di andare ad installare nel tuo browser un'estensione di sicurezza che in realtà non è altrettanto efficace quanto il resto di Malwarebytes. Anzi, magari in un prossimo video parleremo anche delle estensioni di sicurezza del nostro browser. Attendiamo solo alcuni secondi che venga terminata l'installazione di Malwarebytes che andrà a creare automaticamente una icona sul nostro desktop e finita l'installazione, oltre a chiudere la cartella compressa retrostante che ormai non ci serve più, cliccheremo sul pulsante apri Malwarebytes. Quello che ci verrà chiesto è di effettuare una scansione del nostro sistema. Potremo farlo cliccando per l'appunto sul pulsante scansione e a questo punto dovremo semplicemente attendere qualche minuto il termine della stessa. Ok, la nostra scansione è terminata. A questo punto cliccheremo sul pulsante avanti e ci ritroveremo di fronte a questa schermata. Dovremo aspettare ancora qualche secondo che venga effettuata una verifica dello stato di salute della sicurezza del nostro pc. Come puoi vedere i pallini sono tutti quanti verdi quindi vuol dire che è tutto quanto a posto. Clicchiamo ancora sul pulsante avanti e quello che ti suggerisco a questo punto è di saltare questa operazione relativa alla cosiddetta traccia digitale perché richiede l'inserimento di ulteriori dati a fronte di un beneficio molto modesto. Quindi clicchiamo sul pulsante salta per confermare e ci ritroveremo di fronte a quest'altra schermata che ci propone di acquistare Malwarebytes anti malware nella versione a pagamento. Attenzione, quella che abbiamo adesso è una versione di prova di 14 giorni scaduta la quale come vedremo tra un attimo avremo la possibilità di acquistare la versione a pagamento di Malwarebytes oppure di passare definitivamente alla versione gratuita. Per ora clicchiamo sul pulsante forse più tardi e ci ritroviamo di fronte alla finestra di benvenuto nella prova gratuita. Confermiamo cliccando su continua con la prova gratuita di non voler acquistare la versione a pagamento. Continuiamo ancora cliccando su ho capito ed ecco qui la nostra dashboard. Ma chiudiamo temporaneamente la nostra dashboard di Malwarebytes anti malware perché mi sono spostato appositamente sul lato sinistro per mostrarti la situazione generale di questo computer su cui agisce questa tripletta qui in cui Microsoft Defender si occupa di tutte quante le protezioni accessorie come ad esempio la protezione dell'account la protezione del firewall e così via mentre la protezione in tempo reale e la protezione da virus e malware è deputata a Bitdefender che è il miglior antivirus gratuito come abbiamo visto anche nel video precedente ed infine abbiamo il nostro Malwarebytes anti malware che guarda alle spalle a tutti quanti per mezzo di questo preziosissimo pulsante che si occupa di effettuare la cosiddetta scansione on demand ovvero una scansione che verrà effettuata manualmente da noi nel momento in cui lo andremo a cliccare cosa che ti consiglio di fare con una certa periodicità e quindi almeno una volta ogni mese se non di più ma attenzione siamo ancora nel nostro periodo di prova che scade tra 14 giorni che cosa succede nel momento in cui il periodo di prova dovesse scadere beh ti faccio vedere una cosa se andiamo sul pannello di controllo e andiamo a disinstallare il nostro Malwarebytes anti malware succede esattamente questo cioè che allo scadere dei 14 giorni ci verrà proposta una cosa molto interessante se quindi cliccheremo su remove malwarebytes potremo switchare automaticamente a malwarebytes free edition cosa che volendo potremo fare anche prima della scadenza esattamente come ho fatto io conservando la possibilità di utilizzare tutte quante le scansioni on demand che sono la cosa che più ci interessa e rinunciando invece alla protezione in tempo reale che tuttavia viene effettuata come abbiamo già visto da beat defender e da microsoft defender mica male no insomma a mio avviso questa potrebbe rappresentare la soluzione ideale da implementare nel 2025 per la protezione anche della tua macchina in virtù della estrema leggerezza di questa tripletta di antivirus e della sua estrema efficacia in grado di essere montata anche su macchine più vecchie o meno prestanti dato il suo bassissimo impatto sul sistema ma prima di andare avanti c'è un annuncio importantissimo che devo farti a nome dei moderatori della nostra community sempre siano lodati questi santi uomini infatti si sono accorti del fatto che si stanno sempre più moltiplicando le richieste di assistenza e si stanno organizzando in maniera tale da poterti offrire a te e a tutti quanti i membri della community anche assistenza remota di più al momento non so ancora dirti aspetto notizie da parte loro ma stai tranquillo che ci saranno grosse sorprese e veniamo al momento dei ringraziamenti che quest'oggi ti vedono come protagonista ebbene sì mio caro gente i ringraziamenti del giorno sono tutti per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima